Il Cairos Centro Giovani si rinnova con il laboratorio Cairos Fab Lab, una palestra dell'innovazione aperta ai giovani dove troveranno spazio strumenti quali stampanti 3D, laser scanner, elettronica fai-da-te e robotica, una piattaforma didattica innovativa in cui gli allievi possono trasformare in realtà quanto hanno ideato, modellato e progettato digitalmente sviluppando competenze sempre più importanti per il mondo del lavoro. Una palestra dell'innovazione realizzata grazie al contributo economico della Fondazione Tercas, alla Consulenza di Fondazione Mondo Digitale di Roma e all'aiuto del Vescovo di Teramo e Atri, Monsignor Michele Seccia. Il luogo messo a disposizione per i giovani della città, adolescenti, un po' più adulti, eccetera, che intendono utilizzare in un modo saggio e utile il tempo libero per continuare ad apprendere qualche cosa. E qui non trovano solo libri di carta, trovano persone disposte non solo ad accoglierli ma anche a continuare il percorso scolastico, ad approfondirlo, insomma a poter fruire di strumenti come quest'ultima tecnologia informatica, grazie a coloro che si presteranno la loro opera ma anche che hanno permesso attraverso il finanziamento, di aprire nuovi orizzonti che magari i ragazzi cominciano a studiare, a conoscere a scuola o attraverso le amici e qui hanno a disposizione. Speriamo che anche questo sforzo, questo impegno ottenga degli ottimi risultati proprio a favore della gioventù.